Vi raccontiamo oggi la storia di una delle tante perdite idriche disseminate sul perimetro comunale di Sciacca. Qui siamo in via Melcart, alla celebre prima discesa che introduce sulla spiaggia di Capo San Marco. Dallo scorso mese di ottobre, un giorno sì e uno no, l'acqua si disperde lungo la strada infiltrandosi, come è facile immaginare, tra i muri delle case, oltre che su una strada che, come tutti sanno, è particolarmente vulnerabile. Il culmine di questo disservizio rischia di essere drammatico. Il muro di contenimento di un'abitazione è completamente assorbito di acqua e il proprietario teme il peggio. Io ho fatto la prima comunicazione, poi ne ho fatto una seconda, visto che non si era visto nessuno. La terza abbiamo fatto una diffida praticamente due mesi fa. Ancora sono venuti a fare il sopralluogo, ma ancora non si è visto nessuno. Io ho il giardino tutto allagato, ogni volta che viene l'acqua. Poi, come si vedono dalle immagini, l'acqua si infiltra da sotto e scende sotto la casa e arriva al muro di cinta nella parte inferiore. Capisco che praticamente ognuno ha i suoi diritti e i doveri. Noi abbiamo il dovere di pagare l'acqua, però nello stesso tempo abbiamo il diritto di non avere perdite e quando c'è bisogno che diano l'acqua. A questo punto mi vedo costretto a fare un'altra diffida legale facendomi fare una perizia da un ingegnere perché chiaramente l'acqua che va a finire nelle fondamenta della casa non è un bene per la casa e mi pagheranno i danni a questo punto se loro non provvedono. Situazione dunque che necessita di un intervento che definire urgente forse è limitativo. Non è accettabile, secondo il cittadino, che in sette mesi di segnalazioni ripetute non si sia ancora potuto risolvere questo problema. Problema che riguarda anche un'altra strada, la via Gebbia Vecchia, una traversa di Corso Emiraglia. Anche qui, come vedete dalle nostre immagini, la perdita è piuttosto copiosa e più volte è stata oggetto di segnalazione nei confronti di Girgentiacque. Tuttavia, un intervento risolutivo necessita anche qui. Chiudiamo con una segnalazione dalla strada della variante per la Foggia, dove un albero troppo cresciuto sul terrapieno laterale ha invaso la carreggiata e rischia prima o poi di precipitare. Qui, una volta tanto, Girgentiacque non c'entra.